Si intitola Cantiere Opera, il ciclo di incontri che si terranno dal 31 gennaio al 12 febbraio al Teatro Niccolini di Firenze, dedicato alla riscoperta dei capolavori dei grandi compositori italiani come Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Nicola Campogrande. In solito maestro e conduttore di queste lezioni in spettacolo sarà Elio, accompagnato dal regista e direttore artistico Francesco Micheli. In tutto sei compositori per due sere consecutive, per un totale di 12 appuntamenti che mescoleranno l'opera con la letteratura, la musica pop, il cinema e la televisione. Secondo me la cosa bella del Cantiere Opera è che non so cosa accadrà, non lo so ora e penso che non lo saprò neanche un minuto prima di mettere i piedi sul palcoscenico, però questo per una precisa volontà mia e del mio partner, ma sappiamo che parleremo delle grandi opere italiane e cercheremo diciamo di inculcare nella testa dei tantissimi giovani che arriveranno, perché sappiamo che ne arriveranno tanti, tanto uno è giovane anche fino a 40 anni e tenteremo di inculcare il concetto che l'opera lirica in realtà non è una, cioè quello che vorrebbero farci credere che fosse e cioè una specie di mummia che se la tocchi si sfalda, ma in realtà è un'opera dell'ingegno italiano talmente bella che piace ancora oggi. Come sceglieremo i brani? Sceglieremo, anzi quelli li abbiamo già scelti, sceglieremo i più belli, a parte il fatto che sono tutti belli, però ne sono certi che sono un pochino più belli, anche se tu mi insegni che è bello ciò che piace, quindi posso dire più onestamente, ecco che è arrivato il mio partner, più onestamente che abbiamo scelto quelli che piacciono di più a noi. L'opera italiana sarà riscoperta da Elio come un forziere pieno di tesori che nessuno di noi ha ancora aperto in uno spettacolo divertentissimo, grazie al quale i compositori dei più importanti capolavori musicali italiani prenderanno vita davanti agli spettatori. Cantiere Opera è inserito nell'abbonamento dedicato ai ragazzi Teatro Bella Storia. Mercoledì 8 febbraio Elio e la compagnia incontreranno i giovani abbonati, l'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Ma c'è secondo te qualcosa che equivale all'opera italiana adesso, nella musica contemporanea? No, forse qualcosa di Elio e la storia attesa, ma forse, forse.